Il vostro cosa vuole la signora da me? Signora... Tiziana, cosa sta succedendo? Sta cercando di sedurti, ma tu sei un po' duro di comprendonio Perché camminata a 200 metri è presso a me Vedi? Non mi piace il bracciale Tiziana, ma se no te continuerai a seguirmi? Ma certo, visto che sei daniela barri, non l'hai capito Non mi piace il bracciale Non mi piace il bracciale Non mi piace il bracciale Non si deve bene